Ennesimo colpo della banda del tombino. Questa notte ad essere preso di mira Don Farid, il ristorante pakistano all'angolo tra via Filicai e via Strozzi. È successo stamattina alle tre e mezzo, hanno dato il tombino, hanno dato la botta, poi c'è i ragazzi nostri dormiti sopra l'appartamento, ho sentito il rimorre troppo forte, e loro sono usciti, mi hanno chiamato a casa. Sono sopraggiunti anche i carabinieri, ma i ladri ormai si erano dati alla fuga. Io credo ci sono anche pakistani, due o tre ragazzi, che fanno queste cose, brutte figure. Noi chiesto, se gli usiamo, se vuole qualcosa, dimane da noi, per loro tutti i giorni. L'episodio di questa notte è l'ennesimo di una serie piuttosto lunga, che da un paio di settimane ha subito un deciso incremento.